In questo video Migiwa Kamimura, figlia del grande sensei Kazuo Kamimura, ci racconta l'arte e la poetica di suo padre, capace di ispirare anche Quentin Tarantino per il suo equilbio. Grazie per laznazione con i binotimenti, sottotitoli e ho molto immagati nelle ore, mentre mio mio figlio è molto silenziale, dove le giornate ne sono stati pubblicato, ma a fare una maga cheolevrata per il nostro sito, però il nostro sito è un viso di impartero. per quanto riguarda l'impianto, non c'era l'impianto. Dopo il tempo di半世紀, nel 70 anni dell'impianto, è stato molto caro di ricordazione che mi sono piaciuto. E soprattutto, Sì, perché non è stato un po' di designare, non è stato un po' di designare. e mi piacciono molto piacere. Questa è una cosa che è stata molto piacere, e mi piacerebbe piacere.